Punizione severa per i Cattolica che appunto avrebbe meritato qualcosa in più rispetto allo zero raccolto. La prima giornata giocata a domicilio non è stata favorevole ai giallorossi che si sono visti concedere un rigore a sfavore molto discutibile. Neutralizzato dal bravo Andreani e bucare la rete da una zampata vincente di ragazzini. Proprio uno scherzo di ragazzini quello del San Pimola che lo scorso anno ottenne una salvezza con molta fatica ma l'esperienza si sa insegna non a caso l'atteggiamento e quello di giocarsi in match insegnando subito la porta di Andreani con questa punizione di Errani terminata alta. Il San Pimola si rende ancora pericoloso Carbone appoggia per Borini traversone al centro Andreani smanaccia sui piedi Corini che a botta sicura trova un incredibile salvataggio di Parma a negalli la gioia dei gol. Il pallone giunge successivamente poi sui piedi ragazzini ma Andreani recupera la propria posizione trattenendo la sfera. Buona prova di Parma tra i migliori dei suoi che spinge sulla fascia affidando il pallone tra i piedi di Sartori che calza lontano dalla porta di Baldani. Il San Pimola gioca a testa alta Borini appoggia per Carbone conclusioni che Andreani trattiene distendendosi in tuffo. Sembra essere una giornata storta per il cattolico quando da dare in qualche modo diviene proprietario del pallone ma la sua conclusione precisa e potente c'entra il palo alla sinistra dei Baldani. Nella ripresa ti aspetto un cattolico più deciso invece il San Pimola a rendersi pericoloso Carbone si vuole in area di rigore. Liera sbatte contro di lui ma il direttore di gara concede un penalty molto discutibile e l'impressione è che Carboni da Reprei inciampi nella gamba di Liera. Dal discretto Colini esalta Andreani che già dai tempi della Juniorers del Sant'Arcangelo qualche rigore si ricorda di averlo parato, monumentale. Ma la gioia del rigore parato dura pochissimo. Il San Pimola colpisce con una traiettoria velenosa messa al centro dell'area di rigore sporcata e inspaccata da ragazzini. Il cattolico capisce che una giornata no quando da questo cross di palazzi Bacchielli mette a lato da posizione favorevole. Ma come se non bastasse la domenica si dimostra maledetta quando da una discesa di Parma nasce un traversone dove sotto misura arriva la deviazione di D'Addario che fa ora ragò il pubblico di casa ma la palla finisse incredibilmente a lato permettendo così al San Pimola di festeggiare un successo forse isperato alla vigilia di questo match ma sicuramente voluto fortemente. Grazie a tutti.